Molti giovani pensano che la Chiesa sia noiosa e antiquata, fuori dal mondo reale. Alcuni pensano che la Chiesa sia troppo esigente. Allora, che cosa è la Chiesa? Perché ne ho bisogno? Più che un edificio, la vera Chiesa è definita dalle persone riunite sotto il suo tetto. Si tratta di relazioni. In effetti, tutta la Bibbia, come anche i sacramenti, parla di relazioni speciali. Dà il benvenuto agli altri per entrare a far parte della famiglia, per diventare parte di questo rapporto unico. Dipende da te come cambierà la famiglia della Chiesa, come affronterà il futuro. Dipende da te come cambierà la famiglia della Chiesa, come affronterà la famiglia della Chiesa. Dipende da te come cambierà la famiglia della Chiesa. Dipende da te come cambierà la famiglia della Chiesa. Dipende da te come cambierà la famiglia della Chiesa. Dipende da te come cambierà la famiglia della Chiesa. Grazie a tutti